Stai ascoltando un podcast? Rizzoli Education Il Settecento ha lasciato un'eredità determinante, a cominciare dal culto della ragione e dello studio, cui accedono con entusiasmo anche le donne. L'Europa è cambiata per sempre, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, il nuovo dominio della borghesia. È nato il romanzo moderno e la sua diffusione è strettamente intrecciata ai soggetti donna, interlocutrici, protagoniste, lettrici e poi anche scrittrici. È nato e si è diffuso un nuovo sguardo sul mondo, appaiono alcune donne libere e forti che entrano nella vita pubblica e cominciano a organizzarsi. La letteratura parla di noi. Eppure, dove sono le donne? Come si spiega la loro assenza o trasparenza nella storia letteraria e nella società? Sono Maria Serena Sapegno, docente di letteratura italiana e di studi delle donne e di genere alla Sapienza Università di Roma e in questo podcast sarò affiancata da Sara De Simone, assegnista di ricerca e autrice del saggio Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Wolff, Storia di un'amicizia. Insieme vi raccontiamo l'altra voce. Bentrovati e bentrovate all'altra voce. Sono in compagnia di Sara. Buongiorno Sara. Ciao Serena, ciao a tutti, sono tornata. Oggi vi conduciamo nel Settecento, un'epoca di grandi cambiamenti. Ma com'era la situazione in Italia? La letteratura italiana aveva avuto una svolta importante, legata alle forme di organizzazione degli intellettuali nelle accademie. Già nel secondo Settecento, in particolare l'Arcadia, un'accademia nazionale ma a base romana, le donne erano molte e molto attive, quasi tutte dedicate alla poesia. Tra di loro è interessante il caso di Pellegra Bon Giovanni, che scrisse le risposte a nome di Madonna Laura alle rime di Messer Francesco Petrarca, pubblicate a Roma nel 1762 e l'anno successivo a Milano. Quindi parliamo di nuovo di una poetessa. Anche se in Europa il romanzo moderno sta crescendo e sviluppandosi sempre di più, nel nostro paese l'arte poetica, diciamo che mantiene il suo primato, non è vero? Assolutamente. In Italia il nuovo romanzo fatica un po' a farsi strada ed è la poesia lirica a godere ancora del massimo prestigio e naturalmente in particolare Petrarca. È proprio alla potenza della tradizione petrarchesca e all'immagine femminile che essa ha reso eterna, specchio del soggetto poetico maschile, che Pellegra lancia la sua sfida. Parla a nome di Laura e mette bene in chiaro che il proprio è un punto di vista radicalmente diverso. Al momento dell'innamoramento, nel giorno in cui in chiesa si ricorda la crocifissione del Cristo, il poeta racconta le proprie emozioni, certo, e la sua mancanza di qualsiasi difesa rispetto ai colpi di amore. Ma le emozioni di Laura sono del tutto diverse perché lei, al contrario di lui, era attenta proprio agli eventi straordinari che si stavano celebrando e perciò non fu colpita dall'attacco di amore. È come se avessimo la possibilità, ben 400 anni dopo le poesie di Petrarca, di ascoltare l'altra campana, quella della donna oggetto d'amore che si fa soggetto. Ma adesso ascoltiamo insieme il terzo componimento del canzoniere per rinfrescarci un po' la memoria sui versi di Petrarca. Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore i rai quando i fui preso et non me ne guardai che bevo strocchi donna mi legaro tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amore però mandai sicur senza sospetto onde i miei guai nel comune dell'or si incominciaro. E ora ascoltiamo la risposta che quattro secoli dopo scrive Pellegra. Ma attenzione bisogna osservare che come si usava Pellegra gli risponde letteralmente per le rime da cui viene il modo di dire cioè utilizzando esattamente le stesse rime a specchio di quelle del sonetto a cui sta rispondendo cosa che serve intanto a manifestare e dimostrare le proprie capacità poetiche ma anche a far capire quanto si sia dentro quel testo che così si sta a cui così si sta rispondendo. Nel primo di che a te si scoloraro le guance in me l'alma fissando e i rai ambone assalsi amor ma i me guardai e te i suoi lacci me non già legaro che pronta accorsi a fare al cor riparo e rammentando il gran fattore andai che in quel dì soffri morte e i nostri guai a divenir felici incominciaro. abbiamo ascoltato questi bellissimi versi si tratta di versi non solo scritti con grande sapienza poetica e raffinatezza di stile infatti Pellegra Bongiovanni sarà una poetessa molto apprezzata e celebrata soprattutto in Sicilia sua terra di origine ma non solo ma si tratta anche di versi che come abbiamo detto trasformano la figura di Laura da musa del poeta a io poetico insomma un'operazione non da poco e Pellegra non è certo l'unica in quegli anni a essere riconosciuta e apprezzata in ambito letterario artistico vero Serena? no certamente no sono numerose e vivaci le poetesse che prendono parte a un'accademia l'Arcadia che ha sede in tutta Italia e entra nel generale sforzo di costruzione di una rete di intellettuali e artisti una repubblica delle lettere come dicevano che si estende attraverso i confini dei tanti stati in cui la penisola è frazionata in tale situazione è particolarmente sentito il problema del rapporto con una tradizione letteraria che fornisca un contesto e dei modelli una tradizione che è non solo principalmente maschile ma costruita sistematicamente con l'esclusione e la cancellazione delle autrici anche più famose e influenti il che ha naturalmente un gran peso ed è esattamente il tema che tanti anni più tardi Virginia Woolf metterà al centro di una sua profonda riflessione sulla difficoltà delle donne a legittimare la propria voce in mancanza di modelli riconosciuti qualunque conseguenza lo scoraggiamento e la critica avessero sui loro scritti e io credo che avessero un effetto grandissimo questo era poco importante se paragonato con l'altra difficoltà che esse si trovavano davanti e mi riferivo ancora a quelle romanziere dei primi dell'ottocento quando arrivavano a porre sulla carta i loro pensieri e cioè il fatto di non avere alcuna tradizione alle spalle o di averne una così breve e parziale che era di ben poco aiuto perché se siamo donne dobbiamo pensare il passato attraverso le nostre madri ecco abbiamo ascoltato le parole di Virginia Woolf che scrive in uno dei suoi esaggi più celebri più famosi una stanza tutta per sé ecco sono parole che inquadrano molto chiaramente il problema come faccio io autrice donna a scrivere se guardando dietro di me vedo solo uomini se le donne che pure ci sono state prima di me sono state invisibilizzate dimenticate cancellate dalla storia è una questione ancora calda nella prima metà del novecento quando scrive Woolf figuriamoci prima infatti anche alcune donne italiane tra sette e ottocento in particolare proprio in Arcadia dove incontrano altre donne mettono a fuoco questo bisogno profondo di avere una tradizione di riprendere a condividere i testi delle tante autrici che avevano prima di loro raggiunto una notorietà sulla scena letteraria dialogando con altri testi e influenzando a loro volta altre scritture era stato il caso della veneziana Luisa Bergalli anche lei socia dell'Arcadia che nel suo componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo era riuscita nell'impresa di ristampare testi di autrici che pur essendo state molto note erano ormai scomparse dalla memoria collettiva come Vittoria Colonna o Gasparastampa più tardi sarà Isabella Teotocchi Albrizi ancora veneziana ed arcade a scrivere la vita di Vittoria Colonna ma anche i ritratti tra i quali c'è quello della sua aristocratica concittadina Giustina Renier impegnata a costruire la tradizione già romantica della sua patria veneziana con gli otto volumi delle feste veneziane inoltre non sono poche le donne che laddove è possibile come a Venezia trovano il modo di partecipare alla costruzione di una cultura moderna e aperta alle suggestioni che giungono anche dal di fuori degli stati della penisola nei salotti le donne colte accolgono scrittori e scrittrici musicisti e artisti che vengono un po' da tutta Europa la diffusione di testi letterari spesso in francese in quanto lingua colta del tempo abituano il pubblico italiano alla lettura dei diversi romanzi che si stanno pubblicando con sempre maggiore frequenza rivolti in particolare al pubblico femminile insomma possiamo dire che in molti casi le donne non solo partecipano ma diventano figure chiave della cultura moderna anche proprio grazie alla loro capacità di tessere relazioni di mettere insieme persone diverse di essere in ascolto delle novità e non arroccate su posizioni di difesa di una tradizione che peraltro non le contempla e che anzi desiderano riscrivere il modo in cui continueranno a farlo negli anni lo scopriremo presto con l'avvento del novecento che qualcuno ha definito il secolo delle donne ma è davvero così Serena? Beh da un certo punto di vista sì ma certo c'è molto su cui riflettere e lo faremo nella prossima puntata per ora ci fermiamo qui e tanti saluti a tutte e a tutti e ciao Sara ciao Serena ciao a tutte e tutti alla prossima hai ascoltato un podcast Rizzoli Education